L'economia della Campania non potrà ripartire senza una pubblica amministrazione efficiente. Se ne è discusso al congresso nazionale della Wiltec a Napoli. La priorità nel lavoro che manca in Campania e nel mezzogiorno è sicuramente una delle prime questioni che abbiamo è come rendiamo la pubblica amministrazione competitiva. Non ci può essere una capacità di investimento se non hai una pubblica amministrazione adeguata a quella che è oggi l'esigenza di Industria 4.0. Molte realtà non solo per ragioni di illegalità ma anche per lentezze burocratiche anche le poche cose decenti come le zone economiche speciali se non hanno un retroterra di capacità e velocizzare i processi rischiano di essere anche delle occasioni mancate.